Ciao a tutti i miei legionari e barbarazioni an' iscritti, io sono l'SUPCM e vi do il benvenuto e il bentornato su Geopolitical Simulator 4 con l'Etiopia. Come al solito invito i barbarazioni an' iscritti a iscriversi e a tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere la campagna con amici. Oltre questo, se non l'aveste ancora fatto, vi ricordo anche che pubblicato due racconti che trovate gratis, è il link qua sotto in descrizione. Una lettura e recensione da parte vostra sarebbe davvero gradita. Ma detto questo direi che possiamo continuare, il nostro nemico si è arreso e a breve dovremmo riuscire a vedere l'annessione. Il bilancio della guerra è 15 milioni di euro e in realtà penso che sia sfalsato perché abbiamo comprato un bel po' di missili e abbiamo perso 3600 uomini. Comunque è una perdita abbastanza accettabile. Ora, c'è stata l'annessione del Somaliland e del Puntland in teoria. Adesso andremo a vedere come andranno le cose nel prossimo mese. Comunque abbiamo ancora dei campi della GIA totale qui. Adesso dobbiamo liberarcene e direi che lo facciamo con questi lanciamissili e anche con il supporto dei nostri combattenti. Quindi caccia da combattimento. perfetto. Usiamo anche questi qua. E poi, allora, riparare queste basi secondo me non conviene assolutamente. Però, in compenso, dobbiamo assolutamente rimettere in sesto Mogadiscio e Kismau. Ok, va bene così. Tra l'altro ci sono un bel po' di profughi che si stanno muovendo verso questo campo rifugiati e non lo smantelliamo, ma anzi lo lasciamo così. Direi che mi sembra l'opzione migliore. Stiamo spostando, tra l'altro, delle truppe? A me sembra di aver dato ordine più volte a un nostro esercito di muoversi verso Mareg, ma non vedo nessuno spostamento di unità. È anche vero che non vorrei spostare tutte le nostre truppe. Quindi facciamo una cosa. Facciamo che queste truppe che al momento si trovano qui le muoviamo verso Mareg. Oddio, in realtà posso anche non muoverle tutte, a ben pensarci, perché tanto questo campo è più o meno a posto, anche se me lo segna come danneggiato. No, vabbè, spostiamole tutte. Spostiamole tutte, quasi. Ok. Con anche la copertura di un carri e direi che ci siamo. Vabbè, facciamo finire il mese. Vediamo come va l'eliminazione di questi campi ribelli, che in realtà potrebbe andare decisamente meglio. Stanno ripartendo. Rete Oman, avvistamento di un bersaglio ministeriale, va bene. ICT Etiopia a rilento, lo sappiamo, lo sappiamo. Paese a rischio. Rischio elevato di solvibilità finanziaria del vostro paese ci obbliga ad allertare gli attori. Questa non è per niente una cosa buona. Cappello da asino. Il vostro bilancio economico è da montare il vostro debito, insieme a ciò che pare essere il vostro rating basso, il vostro paese è classificato come l'alto rischio per gli investitori. Come è scritta male sta frase? Vi ricordo, se non lo sapevate, che la nostra valutazione si basa principalmente sul vostro deficit di bilancio previsto e sul lamentare del vostro debito. Per quanto riguarda la nostra agenzia sulle spese per il funzionamento del vostro settore pubblico. E ti dirò, eh... Uuuuuh! Mamma! Mamma che brutta roba che è successa. Eh, ok. Direi che si deve aggiornare un attimo il tutto a fine mese, assolutamente. Tra l'altro è passata la tassa sui diritti di successione. Quella sull'inquinamento industriale e sta iniziando la battaglia di Mareg. Perfetto. Ci sono giusto un po' di miliziani, quindi la cosa in realtà dovrebbe essere abbastanza fattibile. Cominciamo a spostare qua le nostre truppe in attesa dell'arrivo dei miliziani. Sì, lo so che c'è la battaglia di Mareg. C'è stato un disastro nelle Filippine, va bene. E ora vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, tra l'altro, per quanto riguarda Puntland e Somaliland. Perché io non vedo assolutamente niente in questi territori? Non mi fa vedere davvero niente? Ok, bandiera. Fa parte dell'Etiopia, in teoria. Però letteralmente io vedo la zona vuota. Questo è davvero strano. Fatemi vedere un attimo il paese. 3-0 referendum per l'indipendenza del Puntland. Ma non posso? Ok. Ah, non posso? Va bene, mi sa che si deve aggiornare il tutto a fine mese. Forse non basta neanche quello. No, siamo a marzo e non è cambiato niente. Ok. No, decisamente non è cambiato proprio nulla. Budget. No, bene. No, bene. E rimaniamo con un deficit di bilancio altissimo? Attacco dell'Etiopia in Galgalud. Galgalud è questa provincia qua o sbaglio? Sì. Sì, 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 sì. Ok, le nostre truppe stanno per l'appunto entrando. Va bene. E in realtà dovremmo riuscire a vincere, in teoria. Contro questi livelli. Vediamo un po'. Dai, mancano solo questi. Ok. In teoria la città è sotto... Ups, scusate. È sotto il nostro controllo. Vediamo di muovere le nostre truppe al Parlamento nazionale. E così facendo la città dovrebbe essere considerata presa. Ok. Chissà se vuole che occupi, tipo, tutto quello che c'è letteralmente. Probabilmente sì. Va bene, allora facciamo che... Spostiamo le truppe in questo modo. Rete Yemen, avvistamento di un bersaglio ministeriale. Va bene. Mi sorprende che il debito si sia aggiornato così malamente. Cioè non mi aspettavo un deficit così... Così alto. Per l'annessione. Sì, ho afferrato il concetto di paese a rischio. Non serve che me lo continuate a ripetere. Grazie. Ok. Dovremmo... Dovremmo aver preso la città. Tra l'altro... Risoluzione numero 2398 per iniziativa dell'Arabia Saudita. Mandato militare nei confronti dell'Eritrea, davvero? L'Egitto dichiara guerra all'Eritrea. Il Sudan dichiara guerra all'Eritrea. La Giordania dichiara guerra all'Eritrea. Ragazzi, non ci sta per niente. Tra l'altro Asmara, o Asmara, scusate la pronuncia, è stata occupata dall'Arabia Saudita, faccio notare. Anzi, vi dirò di più. L'Eritrea al momento è Arabia Saudita. Che cosa strana. Decisamente strana. Va bene. Hanno ammazzato il nostro agente infiltrato. Abbiamo ripreso Mareg. Perfetto. E tra l'altro ho visto una faccina positiva per quanto riguardava il deficit. Quindi le cose si stanno rimettendo in sesto. Per lo meno in teoria. Il conflitto con la GA totale è ancora in corso, ma perché nella zona penso che siano presenti un po' di chiampi. Ora, una cosa che potrei fare sarebbe un controllo. Un controllo della zona tramite magari dei droni. Innanzitutto questi qua. Facciamo che li spostiamo qui. Usiamo un drone per fare una ricognizione della zona. Ma in realtà dovremmo averli sconfitti in teoria. Adesso staremo un attimo a vedere se cambia qualcosa. A fare concluso. Bene, abbiamo una spia in Yemen. E adesso ragazzi, molto pacatamente, vedo di far finire questo mese. Ah, apparentemente abbiamo trovato un altro campo, ribelle. E noi con estrema cattiveria lo disintegriamo. Non ci posso credere. Ci sono dei cittadini, dei rifugiati etiopi che si sono messi in viaggio per chissà dove. Si sono buttati nell'oceano indiano. E si stanno muovendo in direzione delle Seychelles. Siete pazzi? Perché mi state facendo una cosa del genere? Non ha il minimo senso. Vabbè. Comunque il fatto che io non vedo davvero niente per quanto riguarda Somaliland e Puntland mi preoccupa molto. Uh, ragazzi, hanno rapito il presidente del Comitato Nazionale per la Famiglia. I terroristi del fronte di liberazione a Raria. Decisamente non una buona notizia. Tra l'altro con il nostro drone sono riuscito a beccare altri accampamenti. Li ho distrutti. È passata la legge sulle grandi aziende digitali. E il ministro della cultura. Scandolo e danno collaterale. Questa persona è sotto la minaccia di uno scandalo. Tenuto conto dei vostri legami, la facendo potrebbe avere un impatto negativo. È in proporzioni difficilmente calcolabili. Vuole che proviamo a soffocare questa brutta storia? No, no, perché siete terribili a farlo. Quindi se lo scandalo deve venire fuori, che venga fuori, che devo dire? Ok, qua ci sono altri ribelli, tra l'altro. Faranno molto, dovrebbe venirci l'evento per vedere se agire o meno per quanto riguarda il rapimento. Ok, esatto. Lo ammazzeranno dopo averlo tenuto in ostaggio 36 giorni. Abbiamo localizzato unità nemiche. Sì, 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 lo so. Ho già fatto partire il bombardamento. C'è un altro campo ribelle là sotto, tra l'altro. Continuate prima qua. Ok, ragazzi. Siamo ad aprile. Abbiamo emesso 300 milioni di debiti. Cosa decisamente non buona. E siamo in deficit. Siamo in deficit e decisamente non di poco. Tra parentesi, l'inflazione è scesa al 12,75% e la crescita economica è scesa di un punto percentuale a seguito dell'annessione. La disoccupazione naturalmente è risalita, però solo al 4,28%. Ora, vorrei sapere cos'è cambiato nel nostro budget. Vedo che è cambiato molto in termini di educazione. Sono diminuiti i costi della previdenza sociale e anche quelli della gestione del debito. Tra parentesi, ho anche organizzato un incontro con sia il presidente della regione Somaliland che del Puntland per il fatto che non so niente su queste regioni. Cioè, guardate. Per quanto mi riguarda, queste regioni sono vuote. E la cosa è strana, non mi è mai successo. Cioè, è come se non avessi nessuna informazione sulle due regioni. Come se facessero parte, ma non facessero parte. Allora, offriamo io un bicchiere di champagne. Ok, fa parte del partito comunista, direi. Sì, gruppo comunista riformista. Eh, ma non posso chiedergli proprio niente. Presa del Galgudud. Sì, lo so, era già successo. Anche se siamo ancora in conflitto con terroristi. Presidente del Puntland. E via così. Boh, proprio zero, ragazzi. Non mi dà davvero nessuna informazione. Questa annessione potrebbe rivelarsi alquanto problematica. E come abbiamo visto, io non posso autorizzare il referendum per farle diventare regioni indipendenti. Perché proprio non sono segnate. Sapete cosa? Magari ordino... No, qua c'è giusto un carro armato e due soldati. Ordino un po' di soldati di muoversi nella regione. E vediamo se... Richieste di conferma circa il fronte Puntland libero. Ah, vedi che qualcosa c'è. Ah, quindi è proprio come se la zona fosse completamente... Non nostra. Eh, questo... Questa davvero non è per niente una bella notizia. Ok, l'architetto... Questo architetto qua, tra l'altro, l'avevamo liberato dei terroristi. Era quel personaggio pubblico che avevo detto che era stato rapito in uno dei video. Che non sono riuscito a registrare. Anche qua non soffochiamo lo scandalo. Richieste annuale del 764. Sì, lo so. La stessa disoccupazione in realtà è ancora... Vediamo ora attorno a quella cifra. Le nostre truppe piano piano stanno avanzando. E mi fa un po' strano che non vediamo assolutamente niente. Però, che devo dire? Proviamo ad avanzare. Potrei dichiarare lo stato d'emergenza nella regione, ma non mi è fedele nessuno. Quindi non avrebbe alcun senso. Dicono i prevenire le tensioni, che siamo messi male sulle emissioni di CO2. E uno sciopero della fame da parte di un ecologista. Sciopero, che ti devo dire? Se pensi che sia una buona mossa, fallo. Però, parentesi, dovrebbe essere quasi pronta la nostra centrale solare. Sopra elettrica. Un'espressione molto riduttiva. E abbiamo bisogno di altro budget. Fatemi vedere una cosa. Se io alzassi le tasse in questo modo, quanto farei? 354 milioni. Decisamente non abbastanza da coprire tutti i costi che dobbiamo coprire. Brutta roba. Brutta roba, decisamente. Una tassa sulle aziende digitali non mi aiuterebbe chissà quanto. Abbiamo bisogno di tirar fuori ancora un po' di soldi, ragazzi. Lo so. Non è una grande notizia, ma dobbiamo farlo. Tiriamo fuori magari un po' da qua. Ancora un po' dall'inquinamento industriale. Anche qua ci andiamo a fare 300 milioni. Perfetto. Tassa sulle proprietà immobiliari la portiamo a 30. Ci andiamo a fare un po' di soldi anche qui. Diritti di successione riesco ad alzarla ancora. Sì. Anche se il Parlamento non è particolarmente a favore, però me ne sbatterò le balle, perlomeno per ora. Ok, e riusciamo a rimettere un po' di sesto il nostro deficit. Parentesi. Naturalmente i tassi di interesse concordato se ne sono completamente andati al diavolo. Banca Centrale e Fondo Monetario Internazionale sarebbe davvero di grande aiuto avere altri prestiti. Quindi, se voleste darmi giusto davvero 2 miliardi. Una cosa semplice semplice sarebbero davvero fondi ben graditi. Anche perché io vorrei investire in infrastrutture, ma ci metterei in una situazione di debito davvero catastrosa se lo facessi. Ho detto catastrosa o disastrosa? Perché se ho detto catastrosa ho detto davvero una stronzata allucinante. E potrei averlo fatto, però non ne sono sicuro. Sto continuando a tenere il suo tocchio qua, eh ragazzi, ma non vedo nulla di che. Sinceramente. Anche le nostre truppe non mi sembra che stiano trovando alcunché. Richieste di prestito rifiutate. Va bene. Ok. Mi rifiutate le richieste di prestito. Mi riducete il debito allora? Eh sì. Anzi, me lo annullate per essere specifici. Non ci posso credere. La Banca Mondiale mi ha detto di no, ma il Fondo Monetario, incredibilmente, mi ha detto di sì. Wow. Non abbiamo più un debito nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Porca miseria. Allora, 3 miliardi e mezzo, l'1% è 34 milioni. Ok. Risparmiamo 34 milioni l'anno di Inter. Decisamente è una cosa che non ci fa schifo. Buono. Buono. Naturalmente la condizione di un telegesto risiede nel perseguimento di una politica monetaria ortodossa che finora è stata applicata con successo. Buona giornata. Ah, però mi piace che mi dice, con riferimento agli sforzi, il suo paese si è impegnato per quanto riguarda l'equilibrio del bilancio finanziario. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso, dopo opportuno delibera, di accettare la richiesta. Ma che simpatici. Ma che simpatici. Bombe, archivio del fronte, democratico di liberazione dell'Etiopia, ha aggiunto qualcuno. Ah, si è creata una nuova organizzazione terroristica. Potremmo vedere. Eh, sì. Socialista. Con 10.000 adepti, io le ho miserie. Ok, immagino che sia uno che abbiamo importato dalla Somalia. Feltriamo anche in questo, perfetto. Il deficit è sempre, sempre altissimo e... Ok. Ah, tra l'altro i terroristi hanno liberato l'ostaggio che avevano preso. Davvero, davvero strano come cosa. Allora. E se io dichiarassi lo stato d'emergenza nella regione succede qualcosa? Ma no, ma perché me lo sta dichiarando ovunque? Io non ho parole. Davvero, io non ho parole. Toglielo, toglielo, toglielo. Non mi serve a nulla. Toglielo stato d'emergenza. Sì. Gestire questa regione. Mostrare informazioni. Allora, ci vivono 4 milioni di persone. Ok. In Somalia invece? 6 milioni. Non ho parole. Si è davvero grande la parte della decana della nazione. Facciamo finire il mese. Ok, è finito. E anche il nostro tempo è finito per questo video. Mi rendo conto che non è che abbiamo fatto tantissimo se non fare tasse su tasse. Ma questa annessione ha comportato delle stranezze che non mi sarei mai aspettato. Cioè, davvero, il fatto che non mi faccia vedere queste due regioni non è sconvolgente di più. Più che altro perché a questo punto mi chiedo, ok, non ci fa vedere nulla in quelle regioni. Ma noi staremo comunque pagando per le infrastrutture e quello che c'è in quelle regioni? E' molto strano anche per il fatto perché che quando abbiamo fatto in una delle nostre campagne, anzi in due delle nostre campagne con l'Italia, guerre alla Libia, Quando si occupava la Libia, i movimenti di liberazione nazionale o comunque i vari gruppi ribelli, dissidenti, oppositori del governo che avevano città, automaticamente entravano in guerra con noi. In questo caso non è successo. E' proprio come se la regione non esistesse. E adesso, per dirne un acaso, secondo me, se io provassi a costruire una qualsiasi cosa in quei territori, mi direbbe non puoi. E' l'ultima cosa che voglio fare con voi prima di fermarmi. Oh, e invece non è vero, non è vero, non c'è niente ma potrei farlo. Scusate, non è che c'avevo la mappa militare quindi non mi faceva vedere niente. No, no, proprio non c'è niente. Oddio. Ragazzi, ci fermiamo naturalmente, ma aspetto qua sotto i vostri commenti, consigli e suggerimenti. E voglio una vostra opinione su quello che è successo. Secondo me, bug. Cioè, mi sembra davvero l'unica opzione possibile. Va bene. Regionale, vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. A presto. Grazie. Grazie.